Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Chi è e che cosa fa nella vita la fidanzata di Kumo, il ballerino di Amici l'avrebbe tradita all'interno della scuola con Giulia Stabile. Ad Amici i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Dopo l'abbandono improvviso di Mew e Matthew per motivi personali, una nuova ed interessante questione è finita al centro del gossip. In questi giorni infatti si è alzato un vero e proprio polverone, di cui tutti parlano, che riguarda Kumo. Il ballerino è entrato nel talent a settembre 2023, scelto da Emmanuel O, che è rimasto particolarmente colpito dal suo talento. Ma non si mettono in dubbio di certo le sue doti da ballerino, bensì si vocifera che avrebbe tradito la sua fidanzata, o meglio, se così fosse, ex fidanzata. Si dice che si sarebbe avvicinato all'interno della scuola alla professionista Giulia Stabile. Sui social sono cominciati a spuntare i video in cui i due ballano insieme e sono molto affiatati. Molti utenti hanno percepito che effettivamente tra i due potrebbe esserci qualcosa. Ad alimentare il tradimento sarebbero alcuni movimenti social che avrebbe fatto Alessia Erba, la compagna dell'allievo. Amici, Kumo vicino a Giulia Stabile, chi è la sua fidanzata e cosa fa nella vita. In questi giorni il gossip è arrivato nuovamente nella scuola di amici. Questa volta il protagonista è Kumo che, secondo alcuni rumors, avrebbe tradito la sua fidanzata con Giulia Stabile. Alessia Erba ha questo il nome della giovane a 21 anni ed è, come è evidente dal suo profilo Instagram, una ballerina. Sul suo Instagram, seguito da migliaia di persone, ci sono tantissimi video in cui balla, dimostrando di avere un talento molto particolare. Inoltre, la giovane ha una bellezza mozzafiato, è mora, ha uno sguardo magnetico e una forma fisica smagliante. Ebbene, a far parlare di tradimento sarebbe stata una storia proprio di Alessia, pubblicata sul suo profilo, in cui si legge, fuori moda, fuori forma e ho le cornature. Una frase abbastanza ambigua che ha subito messo in dubbio la fedeltà del suo fidanzato. A questo si aggiunge il fatto che sui social ha smesso di seguire proprio Giulia Stabile, anche se non ha cancellato le foto di coppia. In molti hanno pensato che tra Kumo e la professionista ci sia davvero qualcosa, dato che nelle performance sono apparsi super affiatati e complici. Ovviamente si tratta comunque di coreografie realizzate in un determinato modo e quindi il compito deve essere svolto così come richiesto. Al momento, quello che si dice sui protagonisti della scuola è soltanto un'indiscrezione. Nessuno dei due ha infatti dato una conferma e neppure una smentita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.